L'Ordine Provinciale dei Medici di Campobasso si prepara al rinnovo degli organi direttivi. Il presidente uscente Gennaro Barone ha annunciato che non si ricandiderà. Barone, visibilmente emozionato, ha partecipato al giuramento dei nuovi medici, l'ultima cerimonia da presidente. Dopo 14 anni lascia il timone dell'Ordine Provinciale dei Medici e degli odontoiatri di Campobasso. Lo faccio con soddisfazione perché sono consapevole di aver dato il massimo del mio impegno ad una categoria che ho rappresentato sempre con orgoglio e compassione. Per una professione che ho sempre amato e che ho cercato di servire nel migliore dei modi. In tutti questi anni la cosa principale che ho fatto è quella di favorire una cultura di rispetto verso il codice di deontologia che rappresenta la stella polare del medico. Hanno giurato i nuovi medici, tutti emozionati, giovani, insomma una bella esperienza. Sì, è stata un'esperienza come sempre emozionante. I giovani colleghi saranno certamente soddisfatti della solennità di questa cerimonia. e anche chi ha celebrato i 50 anni di professione. Adesso l'affettuoso augurio e un ringraziamento del loro ordine professionale. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo sono in programma.